Dopo appena un mese dalla consegna delle chiavi dell'appartamento in via Persoria, la famiglia Moneti torna alla cronaca per un importante sviluppo sull'incidente stradale del 25 maggio 2014, che ha poi costretto il giovane Alessandro alla sedia a rotelle. Questa mattina infatti si è svolta l'udienza presso il tribunale di Pesaro, dove davanti ai giudici si è presentato un importante testimone di quella maledetta notte, in cui l'allora diciassettenne in sella al suo scooter sembrerebbe essere stato travolto da un pirata della strada. Erano circa le 4 del mattino quando in un tratto di via Gradara, nello stesso istante dello schianto tra il SUV e il Motorino, passò un cinquantenne di Caserta, a Pesaro per lavoro. Quest'oggi all'udienza erano presenti anche il giovane 26enne suo padre Giuseppe, rappresentati dall'avvocato Domenico Musicco, soddisfatto di questo primo step verso una quanto mai riconoscente giustizia per i moneti. L'impressione è positiva, abbiamo avuto un buon riscontro, nel senso che il giudice ha sentito con attenzione il testimone e quindi mi sembra che le dichiarazioni del testimone siano state precise, ha spiegato come ha assistito all'incidente e il giudice ha disposto la consulenza medico-legale sulle lesioni di Alessandro. Questo ci lascia ben sperare per il proseguimento del processo perché finalmente si valuteranno i danni gravissimi che ha subito per colpa di questo pirata della strada e potrà ottenere giustizia. Quindi siamo molto soddisfatti oggi. Il 6 giugno c'è la prossima udienza e c'è il giuramento del consulente d'ufficio e quindi vediamo se l'udienza è stata stabilita anche l'orario, se volete ve lo dico in tempo reale, il 6 giugno alle ore 10. Quindi ci sarà il giuramento del consulente d'ufficio e quindi noi nomineremo i nostri consulenti di parte. Quindi siamo contenti soprattutto per il povero Alessandro che meritava questa giornata dopo tanti anni di sofferenza. È una giornata che attendiamo da sempre, da quando è successo il fatto. Sensazioni, non saprei dirvi. Spero buone e speriamo che vada per il meglio perché sarebbe un aiuto molto molto importante per la nostra famiglia e soprattutto ci aiuterebbe un pochino a superare anche tutto quello che abbiamo dovuto passare nell'arco di questi nove anni. Quindi speriamo che vada per il meglio e che possiamo uscire tirando un sospiro di sollievo. Un mese di maggio denso di appuntamenti importanti per i moneti. Oggi l'udienza a breve la consegna delle chiavi per la loro nuova abitazione a Loreto dopo lo sfratto di un mese fa. Per adesso una sistemazione provvisoria a casa di una zia. Con la nuova sistemazione ci siamo adattati, abbiamo avuto ieri l'appuntamento con gli assistenti sociali per dargli un aggiornamento. Chiaramente è un appoggio provvisorio, come dicevamo anche in precedenza perché è troppo piccolo per noi. Il posto e la zona sono molto tranquilli, molto belli. Il palazzo è accessibile, tutto. L'unica pecca dell'appartamento è che è piccolino, altrimenti sarebbe una sistemazione molto bella per noi e quindi ci siamo trovati abbastanza bene. Ci siamo adattati bene. Per quella di Loreto non lo sappiamo, dovevamo avere la consegna delle chiavi lunedì il 15. La signora non l'abbiamo sentita e stiamo aspettando delle notizie. Adesso anche l'assistente sociale abbiamo aggiornato su questo frangente. Chiaramente se dobbiamo aspettare una settimana in più, dove siamo? Siamo tra virgolette in casa perché è un appartamento di mia zia, quindi se dobbiamo starci una settimana in più non c'è problema. Speriamo che la signora ci faccia viva e che non dobbiamo ricorrere ad andare per vie legali, a prolungarci di nuovo in discorsi più complessi, che vada tutto per il meglio e più liscio possibile.